mario entra in studio di tutto il piccio stesso mi rende mi rende veramente felice però vedo che qui c'è qualcuno che non è mai apparsa al pub anzi non è mai apparsa sul mio canale quindi io andrei a evitare direttamente dario mario stavo facendo un discorso su quanto importante la famiglia gli affetti eccetera e mi ha chiamato mia nonna per l'anno nuovo e quindi mi sono un pochino mi sono un pochino emozionato tu invece ti vedo un po malinconico ma tu nonna sa che ti droghi non mi drogo dario ti posso chiedere un'altra cosa sì ma hai capito che non mi drogo se sì che è la cosa che dicono tutti i drogati no è la cosa che dite voi che per scherzare vabbè attendo la seconda domanda attendo la seconda domanda voglio capire perché sei sempre tutto strecciato in su streamer da sempre anche nelle tue live aspetta o finalmente mamma mia adesso sì che sono da pub come tu hai capito quando sei venuto a casa da noi recentemente e c'è un pochino questo scherzo si dice meme no questo meme del fatto che alcuni di noi vedono mario come un drogato la cosa non si è fermata lì quando hanno capito i merrino perché dai merrino che nasce eccola il sorriso beffardo del darione però si sta un pochino esagerando hai ragione non deve andare oltre che se no c'è mi dispiace quasi per te non ti devi dispiacere è tutto finto no mi dispiace che tu debba che loro debbano vivere questo più che altro c'è questo scherzo che di cui stai parlando chiaramente ma che c'è che che vuol dire loro devono vivere sono io che lo vivo sono io la vittima qua vuoi raccontare di come ti sei divertito di se ti sei divertito da noi di quando vi siete messi a turno a fare un passavanti e mettermi la mano sulla spalla e dirmi di come potevo migliorare la mia vita ti sei fatto una piccola risata e poi si è tornato in campo non ho preso l'acqua non ti ho visto prendere l'acqua cioè io rischio davvero con questi con questi meme di avere attribuito non ridere da di avere attribuite delle cose veramente gravi ci sono persone che pensano che io sia novax che io sia drogato che io rapisca le persone che io smerci armi senti mario testa una persona che viaggia molto vero cioè ha viaggiato in passato si generante si ho viaggiato molto ho viaggiato molto mi puoi raccontare di quella volta che a fine 2019 sei stato a one stai facendo tipo che sono il paziente zero del copit giusto ti mi raccontato quando sono venuto lì ora ti hai voluto raccontare sta cazzata della di chi ci siamo messi in cerchio io non mi ricordo assolutamente niente di tutto questo ma hai raccontato anche di quel giro pazzesco che ti sei fatto di street food dove hai mangiato animali di tutti i tipi al mercato di animali vivi lì a one bellissimo non è bello di bestie che rimangono imprigionate in piccoli spazi mi diverto perché non sono mai stato a one non ho mai mangiato animali vivi ieri marco mi ha detto che grazie per la cerbottana che hai costruito per sparare ai cani pure questa cosa non è vera ok non mi piace sono venuto a casa tua ospite mi sono preso pure covi per colpa tua e non è colpa mia se si è attaccato te ma che te l'ho attaccato io ma che te l'ho attaccato io dai allora parliamo del tuo percorso su twitch che stai intraprendendo come ti stai sentendo qualcosa di qual è la tua cosa preferita di twitch la mia cosa preferita di twitch è quando la gente mi fa delle domande normali senza parlare della droga perché tutto è fatta però fatta è esatto infatti grazie per la domanda il mio percorso di twitch è stato molto divertente ho iniziato con i miei migliori amici che poi si sono allontanati dalla piattaforma quindi da short brains siamo diventati mario sturniolo tutto andava a gonfie vele finché il momento del il momento della in sicilia si dice inchianata no il momento in cui i numeri l'impennata dell'impennata esatto scusami è arrivato il momento in cui è nato il meme della droga quindi è tutta ancora ma ne stai parlando te stavolta è tutta se ti devo raccontare il mio il mio il mio percorso su twitch il mio percorso su twitch al momento è sedimentato è cristallizzato in delle cose che non sono vere ti è venuto qua in un certo senso per appunto liberarti da questa cosa si magari assumere altre altre stratificazioni di carattere infatti ci sto provando è difficile però ci sto provando insieme lo facciamo insieme sì eccoci ecco cosa fai sul tuo canale tv cioè però non mi ha ancora risposto qual è la cosa che preferisci su twitch cioè cos'è quello qual è la tua la tua droga qua cioè no dai qual è la cosa che ti dà l'infavitale per andare avanti la linfa vitale me lo dà lo scambio con le persone e la cosa più bella è appunto questa il fatto che tu possa parlare podcastare tolcare parlare di te parlare degli altri parlare di cose e avere un confronto diretto io mi sono affezionato ai ai miei pischellini hai sofferto il fatto di essere affiancato a queste grandi figure ma non grandi perché magari valgono più di tema perché comunque sono su questa piattaforma da più tempo di te oppure no oppure te ne sbattuto il cazzo cercato subito di trovare la sua indipendenza e dimostrare a tutti che non eri semplicemente un personaggio la loro di marco ma avevi la tua individualità non ho avuto non ho avuto tante difficoltà perché anche perché mi sono ritrovato con delle persone si molto molto famose su internet ma che fortunatamente erano coincidenti con i miei modi di pensare i miei o il mio umorismo essendo marco e daniele ciccio delle persone che hanno determinate umanità la loro community è lo specchio delle loro umanità essendo marco un cucciolone creativo chi lo segue è un cucciolone creativo mi sono ritrovato gente molto sensibile molto empatica e adesso faccio parte di una squadra in un certo senso una squadra di amici ha un nome questa squadra e guarda certe volte io dicevo merinos universe però daniele rimane sempre molto molto offeso di questa cosa dicendo io non faccio parte del merino universe io ho detto va bene principessa cerchiamo di trovare un nome insieme sto leggendo un po la chat c'è molto affetto nei suoi confronti a si aiuta te stesso e chiami riprendere il controllo della tua vita va bene mario succa no vabbè questo mi sa che ha sbagliato chat no non penso ha detto mario ha detto mario no 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 si si era mara mario mario del pennino l'altro asia a proposito visto la clip dove avevi reattato a marco mi ha abbandonato il videoclip di ciccio reggito da me e mi ha chiamato mario del pennino c'è fatto caso sì poi però mi sono subito retto cioè mi sono interrotto lo reputo comunque strano anche perché ci siamo conosciuti proprio di persona non solo a casa di marco ma anche molto prima quindi quando abbiamo fatto quella cosa col drone pioveva ti ricorda di senza rimorso da quando ho 18 anni me ne sono andato il primo anno sono andato in una città l'altro anno in un'altra diciamo che mi sto scomodando volontariamente per trovare connessioni e risvolti diversi perché a 23 anni perché c'ho 23 anni quasi giovanissimo rispetto a me sì tu quanti anni hai 40 no 31 31 per ora che squadra tifi non ha sì vabbè ora ora come ora visto il campionato napoli che vuol dire ora come ora visto il campionato per affetto nei confronti della città vorrei andare a sparare come vorrei andare a festeggiare insieme a loro nel caso vincesse il napoli ah sì la vedo molto difficile che vinca il napoli e bisogna rifare il centrocampo secondo me o l'attacco è che il centrocampo mi fido della dell'attacco di spalletti bisogna rifare il centrocampo non capisci una sega coglione e mi dici ma parli con me non capisci una sega coglione no no stavo parlando con la chat stavo parlando con la chat non hai detto nessun soggetto sembrava proprio che rispondessi a me mi dici cinque giocatori del napoli si insigne spalletti spalletti non è un calciatore è l'allenatore è l'allenatore però va bene lo stesso non consigliate in chat per favore poi siamo a uno poi c'è stato maradona leggendario parlo della della squadra di di quest'anno dario ma guarda sta diventando una chat di calciatori guarda qua guarda qua non mi piace non mi piace molto la juventus adesso non so quanto posso espormi ho visto c'hai come profic di whatsapp juve merda sì 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 quando si può essere dementi per fare una cosa del genere scusa scusami diceva lasciate c'è uno che ha scritto penso che adesso a questo punto parli di me ti manca un sicilia ti manca qualcosa la sicilia la sicilia mi manca mi manca tutta anche i difetti perché nel momento in cui trovo un difetto di un posto che non è il mio lo tratto con una pietà minore e piuttosto che ai difetti di casa mia ogni ogni posto ha dei pregi dei difetti culturali quelli di casa mia li comprendo con con meno impazienza vabbè le solite cazzate ma che vuol dire 97 che vuol dire le solite cazzate cosa pensi di quello che ho detto io sono d'accordissimo puoi ripetere quello che almeno sì 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 aspetta facendo un po d'acqua hai detto che la sicilia ti manca tutta no no non ho detto che mi manca manca tutta con i pregi difetti non mi manca non mi manca cioè penso la penso con affetto ma non è il mio posto quali sono i tuoi passatempi a milano hai degli hobby guarda al momento mi sono molto innamorato di twitch quindi faccio tutto in funzione di quello faccio botte di live di sei ore dalle tre alle sei ore i miei hobby più belli sono seguire il calcio e giocare giocare a determinati videogiochi sono molto monogamo ne gioco pochissimi se no mi piace andare in giro a piedi sentendomi la musica guardando posti inesplorati culminando mangiando una pizza di rosso pomodoro non appena mi viene fame qualche merda di vita con chi stai parlando questa volta della tua chat crest crest sì ma come cazzo si fa grazie a cronisti notti c'è stai a milano ci saranno 25 milioni di pizzeria ci sarà anche michele probabilmente vai dal rosso pomodoro mi piace mi piace quella di rosso pomodoro ma si scopa facendo queste cose anche ma che vuol dire si scopa facendo queste cose poi a un certo punto bisogna perché tanto tutto nella vita dell'uomo è fatto in funzione di scopare no quindi poi si scopare mangiare e dormire è in funzione cioè di queste di queste no più scopare di tutto il resto secondo me però è una cosa è una cosa soggettiva comunque sì faccio anche l'amore nella mia routine sei un tipo sentimentale o più animalesco penso che penso che le cose siano strettamente collegate cos'è che ti piace di più della della tua del tuo partner è il fatto che dopo dopo vario tempo conosca come toccare il mio cazzo conosca cosa mi piace quindi mi piace mi piace e più parla cocaina dal culo non ho mai mai non ho mai pippato cocaina dal culo di nessuna ragazza ragazzo invece non ho mai avuto a te non ho mai avuto rapporti sessuali con un ragazzo non ho mai avuto rapporti omosessuali parla cocaina dal culo mica il rapporto sessuale questo è anche vero e no non l'ho mai fatto stanotte ho sognato che mi dimenticavo di bussare da daniele e daniele era in compagnia di un ragazzo di nome gerlando che avevo conosciuto anni e anni prima nei miei viaggi non è così difficile da credere ti piace proprio il pallone mi fa mi fa impazzire sono molto sono molto perché è stata è stato il modo in cui comunicavo con mio padre che salutiamo sì sì si chiama Orazio Orazio sì 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 lo so lo so che ne sai viene spesso qua da me in chat Orazio non me l'ha mai detto che viene da te in chat è fissatissimo per forza per forza dice sempre continuazione ah sì questa cosa dei meme e daniele mi ha un attimo iniziato verso l'evoluzione del meme del si va a letto dice che adesso il modo per continuarlo è dire che si va a letto ma senza dire che si va a letto tipo si va sotto le coperte si va sotto il piumino si va sotto il piumo si dorme sopra il cuscino ma a te piacciono più le carte dei pokemon o le carte di yugioh le pokemon lo sai io sono un campione regionale di pokemon soffri un po non esibiti più sul palco eh guarda non vorrei espormi sentimentalmente perché ho paura che poi tu mi calpesti comunque sì soffro a non stare a non stare sul palco ma però twitch è un po un palco teatrale no certo certo non a parte gli scherzi sì è una maniera ottimale con cui ho sostituito il palcoscenico ma scusa te che personaggio stai interpreti su twitch oppure sei naturale no no sono naturale ovviamente sono naturale anche perché sennò soffrirei abbastanza a mettermi a nudo con però che fingo che cos'è qualcuno ha sniffato una raglia non mi sembrava il suono di qualcuno che sniffasse raglia oh ciao marco ciao marco marco ciao come stai bene ho bruciato il mio letto domani me ne compro uno nuovo l'hai bruciato alla fine cosa vuol dire quando si parla di droga si agita sempre vuoi farti una bella raglietta per tranquillizzarti ti lasciamo solo anche perché illegale lungi da me l'idea di tranquillizzarmi attraverso questi metodi io mi tranquillizzo camminando o stando con i miei amici o guardando delle cose che cazzo guardi nell'obiettivo no perché cazzo guardi nell'obiettivo perché comunque stai dicendo davvero bugie una dopo l'altra ma non è vero non sto dicendo io c'è quale che frase nel 2021 io per calarmi cammino ma che cazzo vuol dire perché cosa che cosa vuol dire che è più legittimo calmarsi drogandosi di cocaina no più che altro basta non ledere la libertà altrui mario e siccome te sei un appassionato di rompere i coglioni agli altri io non rompio i coglioni a nessuno che cos'è detto adesso ecco è tra raglietta dei compagni non è una raglietta di cocaina è ciccio che ha tirato l'acqua le pareti sono poco spesse allora un mio un mio fioretto per l'anno nuovo è scegliene 3 diciamone uno la smetti di fare le pernacchie tu da casa tua ma riesci a finire una frase mi sconcentra quello quello mentre parlo ma non lo fa sempre lo fa sempre un mio fioretto e bere meno red bull fare meno red bull bere meno red bull ma che cazzo è buono ma la parte lo rispettiamo in un anno intero è molto più tempo e energie per assurrare propositi molto più ma se sono soddisfatto della mia vita e che se ho in progetto quello che è il prossimo anno eccetera allora un proposito o ma l'hai sentito cosa ha fatto un'altra pernacchia di merda scoppiato i botti diretto e cercare di aiutare le persone vicino a me al meglio più di quanto in passato cercavo di fare visto che fallivo spesso mentre invece ora so dosarmi meglio voglio cercare di aiutare chi sta vicino a me c'è un fioretto più bello di questo non si è mai vista da una parte c'è parlo mentre parlo grazie da rione ti mando un attimo un bacetto ma che cazzo di rispetto hai per chi ti ha messo al mondo voglio aiutare al mondo marco non è mia madre ma cosa ti ha tolto dai bidoni la gioia messina e t'ha messa al minore non fai video ero già andato via da messina quando ho conosciuto marco guarda come se ne faccio un altro che è ancora dell'antoniano ne faccio arrabbiarmi arrabbiarmi di meno nei posti dove non ci si deve arrabbiare cioè trovare continuo il mio fuorietto è molto simile al tuo marco cioè cercare di certo certo cosa no 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 prego prego no perché no è naturale imitare un fioretto così bello così romantico cioè cercare di rispettare ancora più i miei amici cercare meraviglioso di di avvicinarmi ancora di più a loro per capirli meglio comprenderli evitare di fare errori ma evitare di fare errori con i miei amici con i miei in più penso che sia praticamente obbligatorio per noi utilizzare questo fioretto dario anche perché più c'è dentro in questa carriera più magari ci si allontana dalla realtà di vita vera che sia intimamente vero sono e quindi dobbiamo assolutamente curare quella parte della nostra vita con twitch più che con youtube secondo me perché youtube è un video dove ti concentri ogni tanto poi ti prendi una grossa pausa però ci prende il gioco tempo si sta iniziando bene il fioretto è l'ultimo dell'anno che siamo ancora 2021 giusto mario dicevi che eri monogamo sui videogiochi no c'è che giochi sempre quelli quali sono i tuoi videogiochi preferiti i videogiochi li ho toccati da poco e soltanto uno me lo sono portato dall'adolescenza che banca cosa ma di cosa stavo dicendo che mi sono portato budokai denkaichi 3 dalla mia adolescenza fantastico sono molto forte infatti certe volte mando a volpescu foto di personaggi di denkaichi perché c'è una sfida c'è una sfida un campione campione enorme lui anche se cosa ha anche ok è continuato la mia il mio file sì 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 no no l'ho rifatto da capo perché ho deciso di iniziarlo e finirlo in una live in realtà king dice non so se lo sai mai visto che c'è una ventaglio con percorso tipo gioco dell'oca quelli non sono randomici c'è ogni casella rappresenta un mini boss quindi se te facendo il perry al momento giusto sul dado finisci sulle caselle giuste riesce anche a finirlo con meno droga possibile come con meno tentativi possibili cioè riesce a prendere meno hit a fare il vostro solo che ha sentito cosa non ha detto tentativi all'inizio con me non ha detto con meno tentativi all'inizio ha detto con meno droga che cazzo ridi vabbè sta diventando sta diventando maniere di persecuzione a dire maniere di persecuzione l'abbiamo sentito tutto hai detto con meno droga possibile io ero qua davanti non hai detto con meno droga possibile quanto sei soddisfatto marco del tuo magnifico video in pato parliamo della merda che fa mario e impatto ci sei soddisfatto da 0 a 10 quanto da 0 a coca io sono abbastanza forse otto e mezzo ma potrò dire veramente coca la posso parlare di una cosa mia scusami sto aspettando un oggetto in scena uno singolo e serve a essere quello che mi raccontavi quello che si deve fare la signora ma era quello che ti serve ma quello che cosa vuol dire la manica la manica la manica così prima di mani è perché c'è pure la mani che è un vestito bello lungo sono pazzo io sono la si cuce che si cuce mamma mia che buona sta droga è presente quello che si cuce ma che cazzo hai appena detto e comunque stavo dicendo che ciccio e marco per i primi primi prima iniziato con la droga poi hanno iniziato con quello poi hanno io non ho mai iniziato no 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 ho quittato addirittura l'erba il culo me lo sono fatto il vaccino posso anche farvi vedere il green pass no 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 le boccette no 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 c'ho c'ho il green pass se vuoi vedere te lo faccio vedere non lo faccio vedere eccolo qua guarda l'app immuni c'ho ma non si vede si vede si vede si vede ti ballano si fa vedere no no non c'è una canna che la nostra sanità non solo si paga pochissimo addirittura non si paga ma favorisce anche chi come te decide di non prendere ma come me il gran cazzo marco che non fa ma non annuire tu in quella maniera tipo che stai ascoltando un discorso di quelle si stanno sparando delle minchiate qua ci vediamo hai mirato un calcio mi ha dato un calcio col 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 rischio che rompevi il computer ce l'ho qua davanti di cosa sono fatto e sta facendo a no ma certo ma parliamo al telefono ma parliamo al telefono facciamoci i cazzi nostri non ci sono trappole per gatti eccomi mario scusa mi era la narcotici non abbiamo lo specchio in camera vale bravo marci sono quella parte della casa ma che mario grazie mille di essere passato è stato guarda dario grazie grazie a te grazie a te spero 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 che al nostro prossimo incontro si faccia qualcos'altro oltre oltre che rovinarmi la vita vabbè abbiamo saputo tutto il teatro le live il fatto che giochi chi chiacchi di live lo dillo maio sturniolo gaming e non è mai lo studio gaming podcast podcast poi abbiamo abbiamo tutto la tua passione per la cucina per 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 la colazione soprattutto per le paste insomma abbiamo scoperto tutto mario la pazzi ringrazio la pasta è stato veramente un piacere averti qui il piacere è stato mio dario grazie mille per grazie mille per tutto grazie davvero grazie a te mario e iscrivetevi al canale di mario che a parte la droga è veramente un grande ed è simpaticissimo non mi trovo a parte il meme e il meme della droga intendeva finalmente ti ringrazio ti saluta marco dario ciao 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 buon anno buon anno non fare il medio mentre te ne vai sempre sempre le solite cose dai ciao mario ha fatto veramente ridere ciao 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 è stato esattamente come me lo immaginavo terribile conoscitivo simpatico per voi